Amici sportivi appassionati di calcio a 5, un saluto da Fabrizio Agostini in voce, Enrico Pasquale Icoduzzi al commento tecnico, Emanuele Barzi in cabina di regia alla squadra di Mondo Futsal, gli dà la buona serata dal Pala Bianchini di Latina, sesta giornata del campionato di Serie A 1 di calcio a 5, si affrontano l'Axe Group Latina e Futsal Isola. Maina, sul pallone ci sono Spindola e Demmer partiti, poi Maina, Maina per Picapau, Picapau sinistro, la deviazione. Maina, Maina, gioco di gambe di Maina, va via, poi pinta col destro, tira col sinistro, la parata di Lion. Maina, maina, prova il gioco di gambe con Avellino, va la conclusione, la parata di Lion. Per Battistoni, palla in rete, 1-0 Latina, Gerardo Battistoni sblocca lui, Lion porta palla. E poi scarica il destro, Chinchio, calcio d'angolo. Il corso di questo primo tempo, 8 minuti di gioco, 1-0 Latina, corso, apre per Avellino, tutto solo Avellino, la deviazione di Lion. Pallone è intercettato da Maina, Maina, Maina che mette dentro, erroraccio difensivo nel Futsal Isola, e raddoppio di Latina, 2-0. Corso, Bernardes, punta Scola, va via Bernardes, torna sui suoi passi, poi sulla linea, si salva di Chinchio. Ora, buona l'iniziativa di Scola invece che entra in area Scola, Chinchio, ci mette il corpo. Sta per perdere la sfera, ma c'è Mentasti a rimorchio. Allora Marcellinio fa valere la sua tecnica e Chinchio fa valere la sua. Le Spindola, prova ad andare via il Futsal Isola, ma c'è Avellino, Avellino, Avellino sinistro, ancora Lion. Bernardes, prova ad andare via il calcione, ma ancora Latina, Maina, parata di Lion. Possibile contropiede del Futsal Isola, con Mentasti, ma c'è Chinchio. Ancora Futsal Isola, va via Marcellinio con la sua velocità, Marcellinio ancora a Chinchio. Lion si libera del pallone male, poi arriva Avellino che non inquadra però la porta. Marcellinio si accentra, sinistro, la deviazione di Corso. Rubè mette dentro, Chinchio respinge, Corso, poi il tiro di Mentasti. Picapau. Bernardes, ancora una parata di Lion. Secondo tempo, come sono passati ormai i cinque minuti, Bernardes, gran numero per Terenzi. 3-0 Latina. La rete di Andrea Terenzi, ma che numero! Ugo Bernardes. Lion. Pallone, colpo di testa e sulla linea, Maina, salva un gol fatto. Sul colpo di testa di Espindola. Corso, va via Corso dove c'è spazio, ma c'è Scola. Gli strappa via il pallone, Scola, Marcellinio, Chinchio. Isola che deve velocizzare il possesso palla. Mentasti anticipato, poi Avellino, Avellino, timbro di Avellino per il 4-0 dell'Axed Gruppo Latina sul Fuzz all'Isola. Mentasti apre per Emer che non tira, ma c'è Scola. Tira lui, palla ad un soffio dal palo. Ancora Latina, Maina, Maina scarica il sinistro, Maina. Sfida ormai terminata, arriva la sirena a decretarlo. 4-0 dunque la vittoria dell'Axed Gruppo Latina sul Fuzz all'Isola in questo anticipo della sesta giornata del campionato di calcio a 5. Tutta la squadra di Mondo Fuzz all'Isola vi saluta e vi ringrazia per l'attenzione. Emanuele Barsi in cabina di regia, commento tecnico Enrico Pasquale Coluzzi e da Fabrizio Agostino in voce, una buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.